Cosa mi attira verso questo luogo? È qualcosa di puro, qualcosa di bello, qualcosa di antico. Vivo una vita in cui mi sento fortemente connessa alla natura, ai suoi sistemi, ai suoi cicli. Mamma, lei voleva che io crescesse in città, ma le colline di Morcote in Svizzera sono sempre state il luogo dove risiedeva il mio cuore. E questa terra mi diceva, sei a casa. Massimo. È mio nonno Massimo che ha aperto questa strada per me. Posso ancora sentirlo quando il vento nella vigna mi porta le sue parole. Usa il tuo dono, Gabi. Scopri il potere di questa terra unica. Rendi orgogliosa la tua famiglia. Il suolo. Da quanto tempo ha avuto origine questo processo? Che cos'è che lo rende unico? Perché la diversità è così importante? Adesso sto studiando. Sto ascoltando il linguaggio della natura. In modo che lei possa raccontarmi i suoi segreti. Sono pronta. Il raccolto dell'uva, la vendemmia, è il giorno più importante. Un giorno in cui tante cose devono allinearsi. Sono molto grata per tutto questo. Rispettando quello che c'è, restituendo quello che prendiamo, possiamo raffare il terreno più sano di come l'abbiamo trovato. Questo dà un senso al mio lavoro. E mi rende felice. E mi rende felice.